Caso stipendio Juve, nuovi rischi all'orizzonte per l'altro filone d'indagine, multa, rigore, ma non solo. L'ultimo. Benvenuti nel canale. E siamo la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Juve salarilaria caso, nuovi rischi all'orizzonte per l'altra linea d'indagine, bene, pena, ma non solo. L'ultimo. Quali sono i rischi per la Juve con la linea salariale? La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione dopo la richiesta del procuratore federale Chinè di avere altri 20 giorni per studiare le ultime schede dei promotori. Si parte da una multa massima, fino ad arrivare ad un'altra pesante multa in classifica, in attesa dell'appello al collegio del CONI da parte delle plusvalenze. Nel mezzo c'è anche il rischio per i 17 giocatori coinvolti, da Ronaldo a Dybala, attraverso Quadrade, Bonucci e Chiesa, che potrebbero essere fermati per un mese o più per essere rimasti in silenzio in passato sugli accordi con la compagnia. Ciò attraverso la mancanza di lealtà è stabilita dall'articolo 4.